salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento dedicato alle pixel art di minecraft oggi facciamo la pixel art di un altro pokemon leggendario che è anche questo tra il cerchio dei miei preferiti che è Mewtwo due piccoli accenni questa è l'ultima settimana innanzitutto per lasciarmi una domanda per il vlog infatti settimana prossima raccoglierò tutte le domande che mi avete fatto e inizierò a filmare a registrare il vlog di risposta quindi se avete qualcosa ancora da chiedermi non esitate a scrivermi nei commenti precedente domanda vlog quello che avete da chiedermi un'altra cosa sabato vi anticipo già che uscirà il vlog interamente dedicato alla games week andrò giù questo venerdì 25 ottobre farò mattina e pomeriggio in quel video vi farò una breve introduzione alla games week vi farò vedere gli eventuali gadget o ciò che acquisterò e vi parlerò anche di quello che ho visto cercando di darvi anche delle mie impressioni sostanzialmente ecco io vi ringrazio come al solito se non siete iscritti al canale iscrivetevi al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.